Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici con possibili rallentamenti sul tratto. Sulla A12 fare attenzione per vento segnalato tra Carrara e Colle Salvetti. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in entrata in direzione Firenze. Sempre sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina per lavori è chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Sansepolcro Sud in direzione Roma. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!